Amici di Innovation Post, prima edizione per lo Smart Vision Forum qui a Bologna, una manifestazione che sarà itinerante ma che proprio dal capoluogo emiliano comincia questo percorso. Una manifestazione dedicata a un tema di estremo interesse, una tecnologia che viene considerata nella sua seconda giovinezza, un fattore abilitante per l'industria 4.0. Tra gli organizzatori Ania Automazione insieme con AIDAM e MS Frankfurt Italia. Marco Vecchio, direttore di Ania Automazione, quali sono i temi e i numeri che ci racconta questa manifestazione? Innanzitutto il sistema di visione come citavi è una delle tecnologie abilitanti, forse se vogliamo andare a vedere anche una di quelle che si capisce meglio il perché è abilitante. Allora, dietro alla complicata definizione di vision, system, machine vision e via dicendo, in realtà c'è il concetto dell'occhio, quindi della telecamera che in qualche maniera elabora dei dati che vengono trasmessi a un software, quindi è un oggetto intelligente rispetto al sensore che tanto diffusione sta avendo all'interno dell'industria 4.0. La telecamera ha un'intelligenza a bordo che gli permette di fare cose più sofisticate e quindi in un'evoluzione come quella che stiamo vivendo oggi dei processi produttivi è un elemento veramente chiave. Il sistema di visione permette di misurare, ma permette anche di identificare, permette di essere una guida per i robot che altrimenti non avrebbero la possibilità di muoversi in un ambiente per esempio cooperativo. Ecco, tutte queste cose che poi si agganciano a temi anche più alti come l'intelligenza artificiale e via dicendo, hanno fatto sì che le due associazioni coinvolte, AIDAM e ANIA Automazione, appunto si convincessero del fatto che aveva dignità a questo tema per un evento specifico. Ecco, ANIA Automazione quindi rappresenta tra le due associazioni la parte diciamo di componentistica intelligente. Abbiamo dei valori di mercato, di riferimento? Come è andato il settore nel 2018? Allora, guarda, quello dei dati è un tema molto complesso perché il sistema di visione, per definizione essendo un sistema, coinvolge appunto una filiera. Quindi chi produce le tecnologie, chi le distribuisce, se vuoi chi le utilizza integrandole all'interno delle linee produttive o di una macchina. Avere dei dati assoluti di tutta questa filiera è molto complesso, ci stiamo lavorando, però ancora non ci sono dei dati consolidati. Abbiamo comunque delle analisi, quantomeno che riguarda la nostra parte più di componentistica, che parlano di una crescita nel 2018 abbastanza importante in linea con quella che è la crescita un po' dell'automazione industriale, parliamo del 7,5-8% che più o meno abbiamo verificato sul campo. È un mercato che ancora deve crescere, parliamo tra i 150 e i 200 milioni in termini di componentistica, alla quale poi ovviamente si deve aggiungere tutto il valore aggiunto appunto dato dall'integrazione dei sistemi. I numeri sono questi, ovviamente il 2019 è un anno un po' difficile, ma lo è per l'economia generale, anche i sistemi di visione vivono molto sull'export dei macchinari, quindi in un ambito dove il commercio mondiale ha rallentato parecchio, anche il commercio dell'automazione ha rallentato parecchio, quindi l'export in diretto ne soffre di questo passaggio. Però in generale diciamo che è certamente una di quelle tecnologie che per sua natura e per la natura della trasformazione che stiamo vivendo è in crescita, indubbiamente. Questo del machine vision è un tema per il quale noi del settore lo riteniamo ovvio, però abbiamo si siamo resi conto che proprio sul mercato italiano mancava proprio un evento che diffondesse cultura sia a livello tecnologico ma anche di uso dei sistemi di visione. In collaborazione con Agne perché entrambe le associazioni hanno dei problemi comuni, infatti la vera sfida è stata mettere insieme le due associazioni, noi proprio per la nostra capacità del fare perché noi abbiamo gli integratori che entrano questi machine vision e dall'altra parte proprio Agne sul fatto di creare la tecnologia del sistema di visione. Direi, visti i presupposti da come è iniziata la giornata, sarà una giornata veramente frizzante e di grosso successo e come ho già detto anche prima è la punta dell'iceberg di tutto un percorso che ormai dura da due anni di collaborazione tra le due associazioni. Parliamo di una tecnologia che nel 2018 ha fatto registrare un tasso di crescita importante anche se inferiore a quello della media europea. Sì, diciamo che appunto è un tasso in continua crescita, il sistema di visione, tutto il comparto è una tecnologia che sta vivendo una sua seconda giovinezza, forse dal punto di vista personale anche dal fatto che questa tecnologia è diventata sempre più accessibile a livello di tecnica molto più semplice da implementare, molto più semplice da utilizzare, ma il risultato finale non è così semplice perché veramente i sistemi di visione, soprattutto sul controllo qualità o anche sul riconoscimento di oggetti, è veramente molto avanti. Questo è un po' un sentore anche di tutto il reparto dell'automazione e robotica, tutti parlano di un rallentamento sul mercato italiano in questi primi mesi dell'anno, posso dire che a livello del settore dell'automazione e robotica non abbiamo sentito questo rallentamento solo proprio alcune aziende esporadiche, però diciamo che tutto il comparto sta godendo di buona salute e le prospettive per quest'anno sono buone. AIDAM è un'associazione che al suo interno ospita costruttori di soluzioni di assemblaggio, ma anche integratori di robotica e visione artificiale, qui portate quindi il punto di vista dell'applicazione. Sì, esatto, diciamo proprio la nostra peculiarità della nostra associazione è quello proprio del saper fare, saper integrare tutte le tecnologie presenti sul mercato e proprio per quanto riguarda i sistemi di visione ben nuove aziende dei nostri associati rappresentano questa parte che è più del 10% di tutti gli associati, quindi una fetta molto importante per quanto riguarda la nostra associazione. Con Nicola Lorusso, responsabile del gruppo che si occupa di sistemi di visione all'interno di AIDAM, abbiamo parlato prima con il Presidente Viscardi, il punto di vista suo sui temi al centro di questa giornata. Beh, l'evento in se stesso è stato creato per fondamentalmente condividere quelli che sono gli aspetti fondamentali di questa tecnologia, di comunicare gli aspetti fondamentali e di divulgare. Non a caso abbiamo coinvolto parecchi giovani, sia degli istituti tecnici industriali che delle università qui vicine, a partecipare a questo evento. Dal punto di vista produttivo, come si colloca il sistema Italia? Non dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista delle competenze che abbiamo in Italia. C'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo coinvolto le scuole. Abbiamo fatto delle collaborazioni anche con il MIUR per andare a spiegare e a raccontare ai studenti quelle che sono le caratteristiche di questo tipo di applicazione e abbiamo coinvolto anche i professori per cercare di dare una mano anche a loro nel formare questi ragazzi e prepararli a quello che sarà il mercato del lavoro. Lato offerta invece ci sono significative eccellenze. Qui abbiamo la Sant'Anna di Pisa, l'Università di Bologna, coinvolte nel comitato scientifico della manifestazione. Assolutamente sì. Da questo punto di vista, a livello universitario, abbiamo delle eccellenze in Italia che non hanno niente da invidiare rispetto a quello che c'è al di fuori dell'Italia. E le aziende che si occupano di visione e integrazione all'interno dell'associazione collaborano con l'Università? Assolutamente sì. Collaboriamo con l'Università e collaboriamo in diversi modi. Sia da un punto di vista di comunicazione e di interventi mirati all'interno di quelli che sono i percorsi formativi ma anche da un punto di vista tecnologico facendo vedere e invitandolo anche nelle nostre aziende facendo anche degli stage a capire e mettere effettivamente a toccare con mano quelle che sono le evoluzioni tecnologiche. Quali sono a suo avviso gli scenari applicativi più interessanti per il futuro sia in ambito industriale che non? In ambito industriale sicuramente lo scenario più interessante è quello della manutenzione predittiva. Quindi penso a fabbriche che le hanno dislocate in settori diversi alla produzione quindi riuscire a capire in maniera da remoto quali che sono le usure dei vari impianti industriali. In ambito non produttivo mi viene da pensare soprattutto basandoci anche su quello che è lo sviluppo della tecnologia quindi pensando a embedded pc o camere che hanno delle dimensioni rispetto a pochi anni fa sicuramente molto più piccole l'utilizzo di questa tecnologia in settori che fino a poco tempo fa erano assolutamente impensabili. Mi riferisco a meccaniche particolari, mi riferisco all'automotive, mi riferisco anche al guido autonoma Guido autonoma esatto sì, a tutti questi settori di interesse in questo filone qui. Con il professor Avizzano della scuola superiore Sant'Anna di Pisa, presidente del comitato scientifico dello Smart Vision Forum. Professore, voi avete passato in rassegna tutte le presentazioni, quali sono i trend tecnologici, i punti di maggiore interesse che avete visto? Sì, certamente la visione la fa da leone nel senso che le tecnologie stanno passando una sorta di breakthrough, di cambiamento tecnologico in cui si è passato da una visione classica basata su analisi di linea a una visione aiutata dall'intelligenza artificiale che riesce a dedurre contenuti dall'interno delle immagini. Le due memorie che avete premiato, una con il premio vero e proprio e l'altra con la menzione per la parte tecnologica entrambe vertono sul tema del deep learning che è legato poi a doppio filo col tema dell'intelligenza artificiale. Sì, il motivo di questa premiazione è, a parte la qualità che è veramente buona, anche perché queste due memorie racchiudono in sé quello che è lo sviluppo, il cambiamento radicale che ci sarà nell'industria attuale nei prossimi anni. L'abbiamo voluto anche premiare perché si mostrano come anticursori nelle aziende locali di quello che sarà lo sviluppo futuro. Ecco, se vogliamo la visione si è detto, è un po' l'occhio della macchina, sia essa un robot oppure appunto un vero e proprio sistema meccatronico l'intelligenza artificiale dovrebbe essere il suo cervello. Chiaramente il fatto che dei sistemi di intelligenza artificiale possano girare direttamente a bordo di un sistema di visione è di particolare interesse. Sì, questo sicuro. Ci sono tra l'altro delle presentazioni di aziende che faranno vedere come i nuovi tipi di sensori integrano al proprio interno CIP per l'intelligenza artificiale. L'altra cosa che bisogna dire è che è cambiata anche un po' la mentalità dell'accettazione dell'intelligenza artificiale perché si è sempre pensato che la visione fosse un qualcosa di infallibile in teoria ma poi che fallisse nella pratica. Ora l'accuratezza di un sistema di intelligenza artificiale può essere misurata e quindi comparata con quella che è l'accuratezza che può dare la lavorazione umana e questo ha dato il là, il via a questo tipo di sviluppo. Professore, un'ultima domanda. La visione artificiale è una tecnologia matura perché esiste da tanti anni ma che come si è detto già oggi nella sessione plenaria sta vivendo una seconda giovinezza. Concretamente si può dire che questa seconda giovinezza oltre che sugli aspetti che ci ha già evidenziato stia anche in una maggiore accessibilità lato tecnico, cioè più semplice da utilizzare? Sicuramente il gradino di conoscenze per accedere alla intelligenza artificiale, alla visione artificiale si è abbassato tantissimo. Già dai primi anni del liceo ci sono studenti che oramai stanno da noi si dice ruzzando, smaneggiando con questo tipo di sistemi. Avere qualcosa di professionale è qualcosa di più complicato ma sicuramente accessibile a livello di tecnologie disponibili nelle aziende adesso.